L'Alto Piano di Asiago, o dei Sette Comuni, secondo la denominazione dei tempi della Repubblica di Venezia, è un insieme di pianori ondulati e di conche coperte di prati ed abetaie, punteggiati di contrade, compreso tra le valli dell'Astico e del Brenta, e separato dal piano da un gradino che sale fino ai mille metri. Capoluogo Neasiago, ricostruita dopo la guerra del 1518, che ebbe qui effetti stravolgenti. Particolarità storica, con evidenti riscontri in cucina, l'afflusso dopo il mille di popolazioni di ceppo tedesco, i cimbri, portatrici tra l'altro di una lingua che ancora qui si parla. Porta bandiera gastronomico dell'Alto Piano è il formaggio Asiago, oggi prodotto anche in pianura, ma di massimo pregio se proveniente da una delle malghe legate agli alpeggi. Altri formaggi tipici sono la caciotta di Asiago, la tosella, entrambi prodotti da latte vaccino, l'acidino fior di capra con o senza erbette, lavorato specie a Lusiana e il pecorino fresco di Malga. Al ventaglio dei sapori, dal topiano, contribuiscono anche i mieli, di tarassaco, millefiori e d'alta montagna. Le erbe spontanee, da cui spesso si distillano liquori, le gradevolissime patate di rosso e la selvaggina. Dal 1909 inoltre si produce anche un dolce tipico, la torta ortigara, secco, a pasta gialla e adatto ad essere insuppato nel vino dolce.